Nuova richiesta di rinvio a giudizio per l'imprenditore barese Giampaolo Tarantini, balzato all'onore delle cronache nazionali per le feste con le escort nelle residenze dell'ex presidente Berlusconi, per suo fratello Claudio e per l'ex direttore generale dell'Asla di Bari Lea Cosentino. La procura di Bari ha chiesto il processo per 15 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione e istigazione alla corruzione, peculato, turbativa d'asta, falso materiale ideologico, truffa, frode in pubbliche forniture. I fatti contestati dai PM della procura di Bari Ciro Angelillis ed Eugenia Pontassuglia si riferiscono agli anni 2008-2010 e rappresentano la riunificazione di due diversi procedimenti sulla gestione delle gare e delle trattative per l'acquisto di attrezzature e protesi sanitarie, sui viaggi e i regali in cambio di appalti e nomine. Oltre ai già citati fratelli Tarantini e Cosentino, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ex dirigenti dell'Asla di Bari Antonio Colella, Francesco Lippolis e Michele Vaira, per Sabina Ilaria Tattò, fisiatra barese e per Vittorio Patella, ex direttore della seconda clinica ortopedica del Policlinico di Bari.